Ma che cazzo? Ma cos'è sta roba? Ma da dove? Scusa? Ma che cazzo c'è? Ma che cazzo c'è? Ah, Ken? Ah, Ken? Ah, Ken? Ah, Ken? No, va bene, non ci credo. Push, 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 push! Ovi, pink! Is inside? I'm red. Ah, Ken? Ah, Ken? Ah, Ken, Ah, Ken, Ah, Ken, Ah, Ken. Guarda, I'm bot... Ma c'è l'Imbot? Wow, wow! Yes, monkey. Raggiungete la bomba e digine, scatela. Bocchi aperti per il nemico. Eccoli. Ma ci basta. Ma... 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 Vabbè, è impossibile, ragazzi, c'è... È impossibile giocare così. Oh, ho ucciso l'hacker! Ho ucciso l'hacker! Ho ucciso l'hacker! I kill l'hacker! Cazzi, dai! Aspetta, aspetta che l'hacka mancia una flashback. Doc, morto. Dov'è, Kaid? Hai dronato? Dov'è? Dov'è? È tutto in fondo. Ma che vado io? Spalto! Non sparare insieme a me, Nico, che... Che muoio pure io. Drono? Drono dentro? Sto ricaricando! Devono istrutto. Ok, flank, Nico. Tu copri il flank dietro. Copri il flank dietro. Ok. Non... Eh, sì, ma così muoio... Muoio tu, muoio anch'io. Cazzo. Dove te, ammette, è morto, giustamente. Da dove? Non si sa. No, ha pushato, Milton. Bene, ragazzi. Da dove ti ha pushato? Da dove ti ha pushato? C4. Sosso. Da dove ti ha pushato, Manuel? Dove sono morto? È la porta principale. Fatta Frost. Quanto io so dove è un bastardo. È qua nell'angolo col pompa. Sì, sì. Fatto l'agio. Nico, mi devi dronare. Sto lì dietro. Arrivo. Il drone è attivo. Veloce. Vabbè, stai lì dietro. Ah, ecco l'uscia. I giri eliminati. Full team? Full team? Full team. Sì, stanno servendo tutti. Ti chiedi perché? 3 contro 5. Entro. Entro. Vai, puoi entrare, Nico, puoi entrare. No, esce Vigil. Mega clip è questa. Mega clip che ho fatto su Vigil, ragazzi. Merdia. Non mi è andato neanche l'assist. Ah, così. Mi è andato neanche l'assist. Mi è andato neanche l'assist. Mi è andato neanche l'assist. Aspetta, facciamo così. Non ne abbiamo un caso. Sì, sì. Guardami questo drone. Ok. Questa è la faccia. Alla porta. No, no. Non è un nemico. Sicuro? Ah, posso plantare, GG. Dai, silenzio. Silenzio. Siquattro, cazzo. Faccio vedere una cosa, guarda. Yuppie. La squadra d'attacco ha eliminato i difensori. No, quadro, non è full team. Grazie. No, quadro, non è un nemico. Disiniezcatore online è attivo. Termite è morto. Termite è morto. Dato Ricarico Ultimo nemico rimasto Ultimo nemico Vittoria alla difesa Nemici eliminati Non è normale Tranquillo nemico ci sono io Ci sono io tranquillo No ma non è normale Ti giuro su dio Questo è sparato a caso Completamente nella nebbia Innescare la bomba Parato Dov'è Dammi la quadrucca Dov'è È sotto Sotto vado io Come è sotto La flenco la flenco Guarda la mia mia quadrucca Dov'è Mamma mia Mamma mia Quei quadruplette che ho fatto Guarda Nico guarda Cattivissima Si è cagata addosso Godetevi il panorama Ok aspetta Sledge morto Uuuuuh Siamo nato Money 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 Ah montagne È sfido Adesso tu muori perché hai rotto i coglioni Guarda un altro Dov'è? Mamma mia Mamma mia Vieni qua Vieni qua Testa di cazzo Quattro di c'hilla È mio Bravo Preso Preso Ma va bene Dettagli Vieni I difensori hanno eliminato tutti i nemici Guarda Guarda Sulla comogena Guarda Dove asce? Ma che due coglioni però Da due di vita Asce questo video Sto ricaricando L'ultimo nemico è rimasto Stando per cambiare Guarda Guarda Ok Un perone di merda Granata Guarda Guarda Un attacco eliminato Non c'è L'ultimo nemico è completato Hanno trovato Hanno trovato una porta Ah volevi eh Dai ti no uno di sto cazzo Te ne avrai a casa Coglione Anche a te te ne avrai a casa Ultimo nemico è rimasto Ultimo nemico è rimasto In blu Oh no Sì 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 Operatore alleato è rimasto I difensori hanno eliminato tutti i nemici No problemi La squadra d'attacco ha eliminato i difensori Ho portato Hai visto Tanto che parla Dove sempre dare Ultimo attaccante di basta in vita GG I difensori hanno eliminato tutti i nemici Ultimo nemico è rimasto Vittoria alla difesa Nemici Tutti due qua erano 10 secondi all'inserimento 5 secondi La missione è trovare disinnescare una bomba Grazie Non Corri Alla L' parenting Tutti Grazie.